Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. In FIPD possibili disagi per lavori all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Segnaliamo cantieri aperti anche, tra l'altro, sulla SR 429 di Valdelsa, tra i chilometri 56 e 173, e due nei comuni di Empoli e Castelfiorentino, dove troviamo senso onico alternato e restringimenti della carreggiata. Ultima pagina in conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus, raccomandiamo di limitare ogni spostamento non necessario. Ricordiamo che è in vigore l'ordinanza dei Ministeri dell'Interno della Salute che vieta di uscire dal comune nel quale ci si trova salvo motivi di necessità. Fortemente rimodulati inoltre i servizi ferroviari, aerei, marittimi e il trasporto pubblico locale su tutta la Toscana. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!